Duende H. Antonio Conti, calabrese classe 91, fin da bambino studia canto e partecipa a numerosi concorsi regionali e nazionali, ma il suo è un percorso di formazione multisfaccettato. Inizia gli studi in comunicazione Dams a Cosenza, la stessa città in cui studia recitazione, frequentando numerosi corsi con artisti del calibro di Fortunato Cerlino, per quanto riguarda il teatro, e di maestri come Alexander Lonquich, per quanto riguarda la musica. Antonio recita in numerosi spettacoli teatrali, in programmi Rai e porta in piazze e locali il suo progetto tributo a Rino Gaetano. Oggi ci presenta il suo nuovo singolo. È uscito su tutte le piattaforme, social e digital store il primo singolo del cantautore Duende, il brano intitolato Judith, dalle sonorità pop rock, arrangiato da Gio Santelli presso le officine 33 Giri. Racconta la storia di un amore tossico, in cui coloro che lo abitano perdono la capacità di giudicare cosa è amore. Dalla perdita di capacità di giudizio nasce quella che sembra ricordare i tratti patologici della cosiddetta sindrome di Stoccolma, in cui la vittima, mossa dal suo estremo bisogno di essere riconosciuta, trova nel suo guzzino una fonte da cui abbeverarsi. Il brano di Duende si situa in un contesto impegnato nella lotta dei diritti di genere e in particolar modo nel dibattito sulla violenza, che si consuma silenziosamente, giorno dopo giorno, in alcune coppie e che nei casi peggiori sfocia nell'omicidio. Il brano è una visione artistica di eventi possibili e ci invita a non perdere noi stessi all'interno di un labirinto nel quale molte volte non si trova una via d'uscita. Grazie per la visione!